Cari amici senesi, un saluto da Dario Brunori in arte Brunori Sass. Vi spedisco questo video messaggio perché purtroppo un impegno davvero gravoso a livello lavorativo mi costringe il mio malgrado sull'arcipelago della Maddalena, fra spiagge caraibiche e acque cristalline. Quindi avrei di gran lunga preferito essere lì con voi, ma purtroppo quando il sacrificio mi chiama non riesco a tirarmi indietro. Vi volevo ricordare che il 26 settembre ci sarò anch'io, alla Notte dei Ricercatori, che faremo il nostro solito concetto strabiliante e meraviglioso che non avete mai assistito nella vostra vita, pieno di frizzi, di lazzi, battute divertenti, il meglio del meglio del meglio, e in più una chicca particolare che sarà la lettura della mia tesi di laurea in Economia e Commercio conseguita, come tutti sanno, proprio all'Università di Siena, una cosa che durerà circa un minuto perché la mia tesi costa di 42 pagine compresa bibliografia, note e interlinea a due e mezzo. Volevo ricordarvi che ho passato anni felici a Siena, lo dico soprattutto perché me l'ha chiesto Fiorino, che cerca di ingraziarsi il magnifico rettore, visto che diventerà tra poco padre, e cosa non si farebbe per un pannolino in più. Ora vi saluto, vi devo lasciare perché mi dicono qui dal comitato direttivo che è pronto il mojito, per cui ci vediamo presto il 26 settembre. Un saluto a tutti voi da Bruno Risas. Ciao ciao!